Sì, sono andato a caricare batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie, e poi si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, e poi si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, e poi si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, capivano tanti anni, ho visto che si è caricato batterie di caffè, Grazie. 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 Grazie.